Brimstone, ho finito di analizzare la registrazione dell'interrogatorio. Sono giunto alla tua stessa conclusione. La nostra ospite non è una nemica. Semmai può rivelarsi un'alleata. Un'alleata con un enorme potenziale. È comprensibile che nutra dei sospetti sui Valorant, vista la natura del mondo in cui viviamo, eppure se riuscissimo a trovare un buon accordo con lei, avremo tutti da guadagnarci. Sono favorevole al suo reclutamento. Assicurati solo che stia alla larga dai miei server.